Salve a tutti, ben ritrovati a questa nuova edizione di Chiasso News. Si prospetta un'altra settimana ricchissima di intrattenimenti a Chiasso e infatti già da mercoledì 23 iniziamo con un'altra, la seconda tornata di Cine Estate Drive-In. Ci sarà sempre nel piazzale del Palapens The Wall e Pink Floyd di Alan Parker. Vediamo il trailer. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.